Musica Ben ritrovati, nuova edizione del TV giornale di Telestense, apriremo tra poco con la cronaca, torneremo a occuparci più che altro degli atti vandalici al centro sociale del quadrifoglio, 5 denunce e un arresto, sentiremo i dettagli appunto nel servizio, ma parleremo anche di pubblica amministrazione, presso Unifest tenuto l'incontro Facciamo Semplice l'Italia e poi ci occuperemo di condizioni meteo perché tornano al tempo, pioggia e abbassamento delle temperature nei prossimi giorni in tutto il nord Italia. Vi daremo dettagli anche sulla settimana della Bonifica, aperte le idrovore a Bando, Berra e Valle Lepri e poi vi anticiperemo un weekend all'insegna del Festival della Fantasia, 4 giorni appunto di cui vedremo tutti i dettagli a riguardo. Per finire spazio anche allo sport con la festa tenutasi al liceo Carducci. Ma apriamo subito parlando dunque di cronaca perché appunto è stata scoperta la banda composta di 5 persone tra cui due minorenni che lo scorso 15 aprile a Pontellago Scuro con un ride avevano danneggiato il centro sociale, il quadrifoglio. Appunto tra di loro anche due minorenni ma sentiamo i dettagli nel servizio. 5 denunce a piede libero e un arresto per droga è il bilancio dell'operazione dei carabinieri di Ferrara che ha individuato i responsabili del ride avvenuto la notte tra il 14 e il 15 aprile al centro sociale il quadrifoglio di Ponte Lago Scuro. A finire nei guai tre maggiorenni, il più vecchio ha 42 anni e gli altri due ne hanno 19 ma anche due minori, entrambi 17 anni. La banda era entrata in azione dopo aver rotto una finestra per entrare nei locali di via Savonuzzi. Dopo aver staccato il contatore della corrente per mettere fuori uso l'impianto di video sorveglianza interno la banda ha ribaltato il mobiglio, devastato tavoli da biliardo, frantumato decine di bottiglie custodite nel bar portandone via altrettante. Le immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti nella zona di Accente però sono riuscite a riprendere il gruppo intento a consumare gli alcolici appena rubati. La procura di Ferrara e la procura del Tribunale dei minorenni di Bologna hanno emesso un decreto di perquisizione a carico dei cinque indagati che è stato eseguito venerdì 10 maggio. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati i telefoni cellulari dei cinque indagati e i capi di abbigliamento utilizzati durante il ride. Dai controlli eseguiti all'interno dell'abitazione di uno dei due diciannovenni i militari hanno individuato e sequestrato un panetto di Ascis di 99 grammi 18 dosi di Ascis per un peso complessivo di 19 grammi e un bilancino di precisione. Il giovane è stato arrestato per detenzione e fini di spaccio di sostanza stupefacente rimesso in libertà e in attesa del processo. E come anticipato nella precedente edizione presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Unifest è tenuta la tappa ferrarese dell'iniziativa Facciamo semplice l'Italia, parola ai territori. Il percorso di ascolto e confronto lungo tutto il Paese del Dipartimento della Funzione Pubblica volto a raccogliere le indicazioni e le proposte di amministrazioni, imprese e stakeholder attivi nei luoghi visitati. Assente per una indisposizione il Ministro Zangrillo, la mattinata è stata seguita da diverse autorità ed aperta dalla rettrice Laura Ramacciotti. E la sentiamo insieme al prorettore Enrico Deida Gagliardo. La pubblica amministrazione detta i tempi del rinnovamento e del cambiamento sia da un punto di vista organizzativo del Paese nel quale insiste, nel quale opera sia sulle singole istituzioni che lavorano per erogare innovazione e servizi al cittadino e alle imprese nella quotidianità. Crediamo molto nella formazione del personale che opera all'interno delle singole pubbliche amministrazioni. Crediamo nel ricambio generazionale. Per tanto tempo si è parlato di interventi dall'inizio degli anni 2000 ad oggi di ricambio generazionale nelle imprese private. Si sentiva questo come una necessità per essere competitivi verso i cambiamenti globali che si stavano concretizzando a livello europeo e a livello extraeuropeo. La stessa cosa deve fare la pubblica amministrazione. Tanti sono i cambiamenti in essere e in atto negli ultimi anni. Siamo partiti da una crisi internazionale e globale nel 2008, una crisi economico-finanziaria che non ha trovato ancora un equilibrio, un riequilibrio a livello internazionale. È seguita la pandemia, sono seguiti i conflitti tutt'ora in essere e in corso che tanto hanno disequilibrato il sistema, le relazioni e quindi anche gli interventi che i singoli paesi devono mettere in opera e in atto al proprio interno. Quindi l'esigenza e la necessità è più che mai attuale e odierna di intervenire, di insistere anche nello stimolare i nostri giovani ad avvicinarsi, ad approcciare la pubblica amministrazione, ad essere incuriositi di poter trovare uno sbocco professionale in questo ambito, di portare un ricambio generazionale all'interno della pubblica amministrazione. Tante saranno le uscite previste nei prossimi anni e quindi è necessario rafforzare questo comparto e anche formarlo adeguatamente, quindi lavorare e intervenire molto sulle competenze. Noi questo lo facciamo attraverso le nostre lauree magistrali, attraverso i nostri master, attraverso i tanti eventi di orientamento, di formazione, di tirocini, molto partecipati non solo dal personale tecnico amministrativo del nostro Ateneo ma anche da tanti colleghi di altre università e di altri Atenei. Diceva la magnifica rettrice che ogni paese viaggia, cammina alla velocità della propria pubblica amministrazione. Per rendere più veloce la pubblica amministrazione bisogna investire sulle risorse più veloci che abbiamo, cioè i giovani. Però i giovani vanno coinvolti, così che possano sprigionare le proprie energie. Quest'anno nei corsi sulla pubblica amministrazione, che partono già dalla laurea trenale del Dipartimento di Economia e Management, abbiamo chiesto ai giovani cosa chiedete voi alla pubblica amministrazione con una serie di indagini, di survey. Quello che ci dicono è che chiedono prospettive di carriera più chiare, stipendi più alti, capaci di aiutarli anche a vivere una vita di qualità. E poi ancora chiedono di partecipare a progetti stimolanti e di poter contribuire alla creazione di valore pubblico. Il senso del bene comune è presente nei nostri studenti, che però vogliono sentirsi coinvolti nella generazione di valore pubblico, ovvero nel miglioramento del benessere sociale, economico, ambientale, sanitario, delle comunità di riferimento dei propri territori. Vogliono essere attori protagonisti. Nella didattica che facciamo all'università, di tipo davvero applicativo, allora abbiamo coinvolto gli studenti in percorsi di pianificazione del valore pubblico, così da renderli la generazione del valore pubblico capace di generare il valore pubblico. Adesso invece una notizia di lutto nel mondo del giornalismo e dell'associazionismo del terzo settore perché è morto a Pistoia Luigi Bardelli, presidente nazionale di Corallo, associazione che riunisce alle emittenti radio televisive cattoliche e che aderisce a Eranti Corallo, di cui Bardelli è stato finora membro del comitato esecutivo. Ricordiamo che nella sua carriera a metà degli anni 70 aveva fondato TV Libera Pistoia per dare la parola agli ultimi, emittente poi diventata a copertura regionale tra le più qualificate della Toscana e nel 2000 è stato presidente della CERC che associa le radio cristiane di 18 paesi della comunità europea. Bardelli era nato nel 1936. Adesso invece cambiamo argomento, parliamo di meteo, pioggia temporali e abbassamento delle temperature, sembrano dunque avvolgere al peggio le condizioni meteorologiche per le prossime ore. Sentiamo. Nei prossimi giorni l'Italia sarà divisa in due, a nord temporali anche violenti e con rischio di grandinate e a sud invece una prima fiammata africana in grado di far schizzare alle temperature ben oltre i 30 gradi. Già da queste ore una profonda depressione sospinta da correnti atlantiche attraversa l'Europa centro-settentrionale arrivando nel bacino del Mediterraneo direttamente dalla porta del Rodano. L'ingresso delle correnti fredde sui nostri mari favorirà la formazione di una perturbazione destinata a provocare piogge temporali al nord, in particolare nella giornata di martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 maggio. A causa dell'ingresso dell'aria fredda in quota non si possono escludere fenomeni estremi a livello locale come trombe d'aria e grandinate visti i forti contrasti che si verranno a creare proprio sul nostro paese. Non ci sarà solo maltempo. A causa della rotazione anti-oraria delle correnti attorno al minimo depressionario ci si aspetta la contemporanea risalita di una massa d'aria molto calda di origine subtropicale direttamente dal deserto del Sahara che si espanderà su tutte le nostre regioni centro-meridionali. Su questi settori attese temperature ben superiori alle medie stagionali che potrebbero raggiungere i 35 gradi in Calabria e Puglia sfiorando la soglia dei 38-40 gradi sulle zone interne della Sicilia. Per quanto riguarda Ferrara le previsioni danno un primo peggioramento per martedì 14 con minime di 17 e massime di 24 gradi. Piogge temporali caratterizzeranno le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 con massime che scenderanno a 20 gradi e minime fino a 12. Tempo incerto anche nel weekend con possibilità di una tregua nella giornata di sabato. E parliamo proprio di sabato prossimo perché torna l'appuntamento con le idrovore aperte iniziativa che ha l'obiettivo di far conoscere al pubblico le attività e i manufatti delle bonifiche italiane. E appunto sabato prossimo 18 maggio sarà possibile visitare per la prima volta aperti al pubblico alcuni pianti idrovori del consorzio di bonifica Pianura di Ferrara. L'impianto di Berra e quello di Bando di Argenta è aperto per l'occasione anche l'impianto di Valle Lepri. Vediamo. Un'occasione davvero unica per vedere da vicino come funziona un impianto di sollevamento delle acque e comprendere la loro importanza per l'equilibrio idraulico del territorio. È l'obiettivo della settimana nazionale della bonifica che con idrovore aperte intende far conoscere al pubblico le attività e i manufatti delle bonifiche italiane del nostro paese. Per questo motivo sabato 18 maggio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 sarà possibile visitare accompagnato dal personale preposto alcuni impianti idrovori del consorzio di bonifica Pianura di Ferrara che quest'anno ha deciso di aprire per la prima volta ai visitatori due manufatti storici mai aperti al pubblico prima d'ora. Si tratta dell'impianto di Berra in via Pennacchiera 99 a Riva del Po che risale agli inizi del Novecento ed è costituito da un sistema di otto tubi in acciaio posti a Cavaliere dall'argine destro del Po che scaricano in una vasca a quota che consente ai sifoni di lavorare anche nei periodi di magra del Grande Fiume. E sempre per la prima volta sarà aperto l'impianto di bando in via Fiorana 49 a Bando di Argenta dove i lavori di bonifica sono iniziati nel 1875 e la rete scolante è stata completata nel 1924. L'attuale impianto idrovoro è frutto di una serie di adeguamenti e una sostanziale ricostruzione avvenuta nel 1946 a seguito degli eventi della Seconda Guerra Mondiale che l'avevano raso al suolo. L'ultimo intervento nel 2006 ha dotato l'idrovora di due pompe che sono state alloggiate esternamente al fabbricato rendendo l'impianto più moderno e al tempo stesso mantenendo le sue caratteristiche storiche. In occasione di idrovoro aperte sarà inoltre possibile visitare il complesso idrovoro di Valle Lepri che con una portata di 117 metri cubi al secondo è il più grande di Europa. Si tratta di un manufatto importantissimo costruito tra il 1958 e il 1964 che porta al mare tutte le acque che prima della bonifica si riversavano nella Valle del Mezzano. Grazie all'impianto di Valle Lepri oggi è possibile coltivare un'area di quasi 19 mila ettari che si estende tra i comuni di Argenta, Comacchio, Stellato e Porto Maggiore un vero e proprio patrimonio dell'agricoltura ferrarese. La visita degli impianti idrovori è libera e gratuita. Adesso torniamo in città perché Ferrara dal 16 al 19 maggio torna a essere la capitale della fantasia grazie alla quarta edizione dell'omonimo festival. Una proposta alla città con la direzione artistica del poeta Davide Rondoni e la collaborazione della Fondazione Zanotti e del Centro Culturale L'Umana Avventura. Sentiamo l'intervista. Quarto appuntamento per il Festival della Fantasia torna anche quest'anno a Ferrara ma partiamo dagli esordi. Che cos'è il Festival della Fantasia? Il Festival della Fantasia è una manifestazione che pone al centro la fantasia appunto che è un'attività prettamente umana e che vuole essere guardata come capacità di guardare e costruire dentro la realtà quotidiana. Quattro giorni appunto che coinvolgeranno Ferrara. Che cosa accadrà? Quali saranno i momenti salienti di queste giornate? Allora il filo principale sarà l'Europa. Infatti il titolo di quest'anno è Europa opera d'arte perché ci avviciniamo, no? Una scadenza anche letterale ma non guarderemo l'Europa solo dal punto di vista del Parlamento ma entreremo dentro a quali sono le realtà vive che si muovono in Europa. Per cui i temi che si affronteranno saranno la sanità il primo giorno dove a tema ci saranno le questioni di sostenibilità ma anche cosa vuol dire curare, il tema del lavoro, dell'introduzione dei giovani nel mondo del lavoro e che ci sono realtà che introducono e accompagnano i giovani in questa vicenda quotidiana e il tema della pace. Guarderemo il tema della pace dove intervistando persone e ci saranno anche testimonianze che ci racconteranno come è possibile vivere in pace dove oggi c'è la guerra. Chiuderà il festival Tonica Pozzo che invece ci dirà come si racconta la guerra perché la percezione del racconto ovviamente per noi che siamo qui dove da un certo punto di vista non ci toccano quotidianamente la guerra però c'è un modo di raccontarla e il giornalista che è abbastanza importante ce lo racconterà. Poi ci saranno momenti dedicati alle scuole, al concorso nazionale su San Francesco perché siamo nel triennio di festeggiamenti dell'ottocentenario di San Francesco con un concorso nazionale a cui hanno aderito 60 scuole di tutto il territorio nazionale che si confronteranno sul tema di San Francesco e poi dopo le migliori tre verranno premiate sostanzialmente. Ci sarà invece per gli insegnanti un corso riconosciuto e fatto in collaborazione con il liceo artistico Dossodossi su che cosa vuol dire insegnare l'arte. Per cui il corso verrà tenuto da alcuni relatori tra cui anche Vittorio Sgarbi, Costantino Dorazio e Beatrice Buscaroli che accompagneranno gli insegnanti nella giornata di venerdì 17 e sabato 18 per confrontarsi su cosa vuol dire insegnare l'arte oggi. Questo è aperto anche agli studenti universitari che si avvicinano e che fanno quegli studi prettamente artistici. Ricordiamo dunque quando e dove per il Feste della Fantasia? Dal 16 al 19 maggio presso il cortile del Castello Estense e Accademia in piazzetta Giovanni da Tossignano 2 in via Saunarola. Adesso invece andiamo al liceo Carducci successo per la seconda edizione del Festival dello Sport. Studenti a testimoniare l'interesse suscitato dall'iniziativa appunto voluta dai docenti del liceo Carducci che non si sono persi una parola dei tanti e qualificati sportivi invitati nelle aule dell'istituto. I qualificati partecipanti all'incontro hanno portato interessanti testimonianze delle esperienze maturate nel corso delle varie attività che li hanno visti i protagonisti nel corso delle loro carriere e sono stati disponibili a rispondere alle domande dei ragazzi con l'obiettivo di affrontare le problematiche dello sport inteso come attività agonistica, disciplina ed elemento educativo in particolare per i giovani. E quindi sentiamo in merito il commento del professor Vittorio Fioresi. Professore Fioresi, seconda edizione del Festival dello Sport. Possiamo partire da un bilancio positivo, vista qual è stata la risposta più che degli ospiti dei ragazzi? Assolutamente sì, i ragazzi sono stati tutti entusiasti, le loro facce erano felici quando sono usciti ed erano molto allegri e già questo ci dice che il Festival ha avuto un buon risultato. Altra cosa è che durante le lezioni ci hanno detto in tanti che i ragazzi erano molto attenti e cercavano proprio di cogliere il più possibile anche da quegli sport che non hanno mai visto o praticato o solo per sentito dire. È importante sensibilizzare i ragazzi più che nel lato prettamente sportivo agonistico, bensì sul fronte relativo a quanto può essere importante lo sport, l'associazionismo sportivo, la comunità per la loro crescita. Benissimo, su queste cose abbiamo lavorato molto, stiamo lavorando molto proprio perché vengano a conoscere tutto il contesto che gira attorno a quello che possiamo chiamare del gesto atletico. La prestazione di un atleta è sempre l'espressione di un contesto che lavora. Questi ragazzi hanno avuto modo di apprezzarli anche per quello che è il loro livello di educazione. Hanno seguito con attenzione, in silenzio, ponendo anche domande interrogativi centrati e intelligenti. Sì, certo. Le domande che sembrano meno pertinenti in realtà ci fanno capire il loro mondo e il loro modo di ragionare e aspetta a noi poi cercare di comprendere quello che ci vogliono dire attraverso tutte le loro richieste. E prima di chiudere un appuntamento perché a Ferrara Expo al Via, mercoledì 15 maggio, la 29esima edizione del Salone Internazionale del Restauro, evento di riferimento a livello mondiale per i beni culturali e ambientali. A caratterizzare l'Expo 2024, un'offerta articolata e di qualità guidata da sostenibilità, innovazione, digitalizzazione ed internazionalità. Si parlerà di ricostruzione e tutela dei beni culturali post alluvione dell'Emilia-Romagna del 2023, post terremoto in Turchia e post conflitto in Ucraina, per cui la ricostruzione è già cominciata con aziende e associazioni italiane in campo e tanto altro. L'edizione 2024 del Salone gode del patrocinio del Ministero della Cultura che sarà presente con un'ampia area istituzionale dedicata, cuore pulsante con workshop, laboratori per centinaia di ragazzi e sessioni di approfondimento per potenziare saperi e conoscenze. Tutto questo dunque a partire da mercoledì 15 maggio. E questa era la nostra ultima segnalazione, come sempre vi ricordo telestense.it e i nostri canali social per questi e ulteriori aggiornamenti. Grazie dunque per averci seguito, l'appuntamento come sempre rinnovato alla prossima edizione. Grazie a tutti.